Buonasera, martedì 3 agosto, sono le 20.35 e noi siamo in diretta con la Camera dei Deputati dove vedete Alfonso Bonafede, Movimento 5 Stelle, ex Ministro di Giustizia, sta in maniera veemente argomentando, siamo al voto decisivo alla Camera sulla riforma della giustizia. Collegata con noi è Elena Testi dall'Ampedusa perché l'altro tema caldo di questa giornata e sarà nelle prossime settimane un tema molto dibattuto è quello degli sbarchi di nuovo di cui si ricomincia a parlare, Salvini ne ha fatto una questione di vita o di morte di questo governo e perché lo ha fatto? Perché scatta oggi il semestre bianco. Da oggi e per sei mesi, gli ultimi sei del settennato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il Presidente non potrà né sciogliere le Camere né indire le elezioni e questo è un po' il liberi tutti si ricomincia a fare campagne elettorali, ci sono in vista le prossime amministrative ma moltissimo altro ci sono sondaggi sulle intenzioni di voto che vedremo fra pochissimo che danno un quadro del Paese molto diverso dalla composizione dell'attuale Parlamento figlia delle elezioni del 2018. Solo per fare un esempio, il Movimento 5 Stelle allora era al 32% e oggi nelle intenzioni di voto è dato al 15%. Quindi quale Parlamento deve eleggere il Presidente della Repubblica? Questo? Un altro? Ci sarà una crisi di governo? E se sì, che cosa potrà fare il Presidente nel semestre bianco di questo e di moltissimo altro? Parliamo con le persone più appropriate a farlo. E qui con noi oggi Massimo Franco, benvenuto Massimo, editorialista del Corriere della Sera il direttore dell'Espresso Marco Damilano e naturalmente come ogni sera è con noi il valido David Parenzo. Tra le persone autorevoli che hai citato. E Antonella Viola immunologa che tra poco vedremo subito anche ovviamente in quadrata. Eccola qua, buonasera. Oh, naturalmente tutta la prima parte sarà dedicata al privilegio che Antonella Viola ci rende perché nei primi minuti di trasmissione faremo con lei il punto sulla situazione zona bianca, zona gialla, Covid e che cosa ci aspetta nei prossimi giorni. Ah, fra pochissimo. Buonasera e buon martedì. Buonasera Concita De Gregorio. Buonasera Davide. Allora, sarà una grande puntata breve ma molto molto ricca di temi perché come vi abbiamo raccontato nell'anteprima dal semestre bianco al tema del Green Pass che da venerdì avremo un primo assaggio dei luoghi nei quali sarà obbligatorio esibirlo al tema dei migranti a Lampedusa e ovviamente salutiamo subito la nostra Elena Testi che proprio lì si trova perché il tema degli sbarchi rimane sempre di attualità anche se per ora non trova spazio delle prime pagine dei giornali. Allora subito veniamo da te Elena Testi, buonasera a Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera, Marco Damilano, direttore dell'Espresso e la dottoressa Antonella Viola, immunologa. Grazie dottoressa Viola per essere con noi. Arriviamo subito da lei sul Green Pass e sull'andamento della pandemia. Prima però un primo stato di salute della vicenda migranti con la nostra Elena Testi che si trova proprio lì a Lampedusa nel porto di Lampedusa. Allora qual è la situazione ad ora? Proprio così Davide, intanto buonasera Davide, buonasera Concita e i vostri ospiti. Io mi trovo in questo momento al porto Favarolo di Lampedusa dove sta per arrivare la motovedetta della Guardia di Fidanza che dovrebbe scortare in questo caso un barchino con dei migranti a bordo. Ci è stato spiegato perché? Perché scortare un barchino? Perché in mare non si possono assolutamente spengere i motori perché sarebbe troppo pericoloso. Quindi fino a quando possono navigare arrivano fino a qui dove ci sono anche altre imbarcazioni. Poi la nave viene sequestrata e vengono fatti ovviamente tutti i primi controlli sanitari. Vi vorrei far vedere però la giornata di oggi di Lampedusa perché è stata una giornata calda. La regia dovrebbe avere a disposizione delle immagini di quello che è accaduto oggi. Quelle che vedete sono le immagini dell'hotspot, un hotspot pieno. Come potete vedere dalle immagini ci sono addirittura fuori questi materassi dove loro si rifanno il letto perché dentro la struttura non c'è più assolutamente posto. Sono oltre 8.000 le persone nonostante ce ne dovrebbero essere solamente 200. Questa è la nave quarantena dove invece sono stati da pochissimo in realtà imbarcati 40 positivi, risultati positivi al Covid e un altro gruppo di persone negative. E poi questo è uno degli sbarchi, uno di quelli avvenuti oggi in giornata. All'incirca erano 100, oltre 100 le persone a bordo e sono state in realtà un recupero di tre diversi barchini. Come vedete c'erano donne ma anche tanti bambini, 14 i minori. Adesso si attende questo ennesimo sbarco qui a Lampedusa dopo anche ieri purtroppo una notte molto lunga e dovrebbero essere all'incirca, questa volta 80 persone in arrivo. Grazie, allora Anna Testi, pronti ovviamente a ricollegarci. Ve lo ricordiamo, ovviamente sono 900 i migranti all'interno dell'hot spot che ne dovrebbe contenere, lo ripetiamo, 250. Quindi non 8.000 ma 900, ma lo abbiamo subito ricordato in diretta. Partiamo da lei, allora, dottoressa Viola. La prima cosa che le vogliamo chiedere, prima di entrare nel merito del Green Pass, di quello che da venerdì accadrà e dalle decisioni che il Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni dovrà prendere rispetto ai trasporti, ma la prima grande questione secondo me è questa. Per quanto tempo dovremmo ancora fare i conti con la necessità del vaccino anti-Covid? Lei riesce a darci da immunologo un arco di tempo? Per quanti anni, se di anni si tratta, dovremmo ancora fare i conti con questo? Beh, allora, questa è impossibile dare una risposta perché dipende da una serie di fattori che ovviamente non posso controllare e nessuno in questo momento può controllare. Il primo, capire quanto dura la protezione che questi vaccini appunto ci conferiscono, cioè se è una protezione che dura molto negli anni o se invece dura poco e quindi molto dipenderà da questa situazione. E poi dall'altra parte c'è il virus naturalmente, il virus che cambia, l'abbiamo visto, che continua a cambiare e quindi è difficile capire come si comporterà e in che direzione cambierà nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Lo scenario più probabile è che il virus rimanga con noi e quindi continui a circolare. La speranza è che questi vaccini continuino a proteggerci dalla malattia severa, per cui semplicemente questo virus praticamente verrà in qualche modo veramente domato e diventi una banale influenza. Però perché si arrivi a questo punto dobbiamo vaccinarci tutti e soprattutto vedere quanto dura la protezione data dalla vaccinazione. Tuttavia, dottoressa Viola, la quota parte di persone che non si vaccinano, non si vogliono vaccinare, preferiscono non farlo per ragioni le più diverse e quindi non soltanto quelli che non lo fanno per motivi, per così dire, ideologici, cosiddetti no-vax, ma tantissime altre persone, non sono per il momento obbligate a farlo. Allora le voglio fare una domanda. Siccome siamo alla vigilia di un Consiglio dei Ministri in cui si deve affrontare il tema dei settori, diciamo così, rimasti fuori, la scuola, i trasporti e il mondo del lavoro. Allora, facciamo l'esempio del mondo del lavoro. Lei sa che i sindacati hanno una posizione interlocutoria, non tutti, nemmeno al governo, sono favorevoli all'obbligo vaccinale. Poniamo che in un luogo di lavoro sia indispensabile il Green Pass per accedere per gli ospiti, poniamo, ma non sia necessario per i dipendenti. Facciamolo un altro esempio, un ristorante. È indispensabile il Green Pass per i clienti, ma non è obbligatorio per il personale, i camerieri, i cuochi. Allora, è molto difficile da capire questo. Lei ci può aiutare? Sì, no. Allora, la situazione ovviamente è molto complessa perché questi sono argomenti che riguardano sia la gestione della pandemia, quindi una questione di salute pubblica e di scienza, e d'altro canto però c'è una questione di diritto, quindi non è così banale dare una risposta. Per quanto riguarda i luoghi in cui si è in contatto con il pubblico, penso ai ristoranti, penso agli alberghi, ma penso anche ai parrucchieri, ai centri estetici, secondo me dovrebbe essere obbligatorio avere il Green Pass, ma non solo per le persone che accedono a questi luoghi, ma anche per le persone che prestano il servizio. Se io vado a un ristorante voglio essere sicura che la persona che sta cucinando per me sia vaccinata. Altrimenti è un senso ed è anche ingiusto. Questo dovrebbe essere scontato. È anche ingiusto, voglio dire, è una disuguaglianza. Ed è anche pericoloso. Ed è anche, sì sì, è ingiusto, è una disuguaglianza ed è soprattutto molto pericoloso. Il discorso nelle aziende, nelle fabbriche, allora da un lato una parte di me dice ma io capisco l'imprenditore, il proprietario della fabbrica, ma anche gli operai vaccinati o i dipendenti vaccinati che vogliono essere tutelati e protetti. Se scoppia un focolaio in fabbrica l'azienda chiude, la gente va messa in quarantena per cui torniamo al problema dell'economia che rallenta, che si ferma. D'altro canto anche appunto le persone che lavorano in un'azienda vogliono essere tutelate, vogliono essere garantite dal fatto che non ci possano essere dei focolai in giro. D'altro canto mettere l'obbligo di Green Pass per lavorare di fatto vuol dire obbligo vaccinale. Cioè non è molto diverso da questo perché ovviamente chi può rinunciare al lavoro. Quindi è una questione estremamente delicata e bisognerà trovare un compromesso. Secondo me la scelta di Draghi, del governo di andarci gradualmente, di avvicinarsi gradualmente all'imposizione del Green Pass è quella giusta. Anche perché nel frattempo vediamo come cambia il virus, vediamo cosa succede alla pandemia e dobbiamo adeguarci di conseguenza. Di conseguenza a questo. Alcune regioni rischiano la zona gialla. Sono il Lazio, la Sicilia, la Sardegna. Se guardiamo a quello che sta avvenendo ad esempio in Grecia Miconos ha già il coprifuoco. Allora su questo cos'è che possiamo dire anche per rassicurare chi ci sta guardando e per salvaguardare le vacanze? C'è un rischio zona gialla effettivo per tutelare la salute pubblica? Allora, dunque ci sono due punti che dobbiamo toccare. Il primo è dire alle persone che non sono vaccinate che in questo momento rischiano molto perché il virus sta circolando, è un virus che si trasmette molto facilmente per cui stanno rischiando non solo per se stesse ma stanno rischiando di mettere in crisi di nuovo il paese. Detto questo, noi però dobbiamo cominciare ad allenare il nostro pensiero a una visione nuova della pandemia, cioè quella post-vaccino. E cioè dobbiamo forse smettere di contare i positivi e cominciare a concentrarci sulla pressione negli ospedali. Cosa voglio dire con questo? Che in un mondo post-vaccino in cui il virus è comunque trasmissibile è possibile che noi avremo dei numeri alti di contagio ma non avremo dei malati. Ecco, noi quindi finora abbiamo, ci siamo focalizzati sul conto del numero di persone contagiate. Se continuiamo così rischiamo di non uscire più dalla trappola, da questo incubo pandemia. Dobbiamo cominciare a vedere appunto le cose in un modo diverso. Le persone fragili sono vaccinate, tanta gente è vaccinata. E' vero che c'è ancora una quota di persone non vaccinate però dobbiamo fare conti anche con questo. E in questo momento, quindi, nonostante il numero di contagi stia salendo, la pressione sugli ospedali non è così alta, non sta aumentando. Io dobbiamo focalizzarci su questo punto. Ho una domanda ancora, sì, poi passiamo la parola ai nostri ospiti, ma ho una domanda sui minori. Perché ho visto, dottoressa Viola, che oggi è uscita la notizia che il Comitato di Bioetica ha detto che vaccinare gli adolescenti è possibile, ma non deve essere obbligatorio e soprattutto che sono i ragazzi a dover scegliere indipendentemente dalla volontà dei genitori, anche se minorenni. Questo è un tema che abbiamo già trattato in questa trasmissione, perché non sono rari i casi di ragazzi che si vogliono vaccinare diciamo contro la volontà dei loro genitori che non vogliono, o viceversa, naturalmente. Allora, il Comitato di Bioetica ovviamente è un parere, è un parere non vincolante, però è molto interessante che i minori possano scegliere autonomamente anche in vista dell'apertura delle scuole. Chiudo dicendole che giusto ieri la ministra Dadone, che si occupa di politiche giovanili, Movimento 5 Stelle, ci diceva che lei è contraria all'obbligo vaccinale e che le scuole, a suo parere, possono anche riaprire stando così le cose. Lei che cosa ne pensa? Riapertura delle scuole e minori che possono scegliere anche contro la volontà dei genitori? Allora, sì, sono contraria all'obbligo vaccinale nei minori, perché se non c'è l'obbligo negli adulti, immaginiamo anche nei minori, cioè no, se deve essere obbligo deve essere per tutti, ma in questo momento non è l'obbligo di cui stiamo discutendo. Sono assolutamente favorevole all'idea, siccome stiamo parlando comunque di ragazzi dai 12 anni in su, e non di bambini, sono ragazzi che possono scegliere in autonomia e insieme al medico naturalmente che deve valutare lo stato di salute, quindi è assolutamente condivisibile questa posizione. La scuola può riaprire? Sì, la scuola non solo può riaprire, la scuola deve riaprire, deve riaprire in presenza, credo che questo sia il tema che da ora in avanti dobbiamo affrontare, dobbiamo, diciamo, in qualche modo stimolare il governo a far sì che a settembre arriviamo nelle condizioni di poter aprire, di poter avere quindi mezzi pubblici con una situazione di sicurezza e le scuole in situazione di sicurezza. Con gli insegnanti vaccinati e con buona parte, mi auguro, dei ragazzi vaccinati, io credo che non ci saranno problemi. Piuttosto cerchiamo di spingere sui tamponi rapidi, salivari, su degli screening, insomma, sui sistemi che serviranno a garantire che la scuola possa procedere con regolarità. Quindi, Davide, se abbiamo capito bene, no, diciamolo perché ci ascolto da casa, i ragazzi, sentito il medico curante, il medico di base, possono decidere se vaccinarsi o non vaccinarsi indipendentemente dal parere dei genitori, siccome abbiamo raccontato casi di ragazzi che hanno fatto causa, addirittura, che sono andati, che sono rivolti agli avvocati, è giusto sapere che è possibile a parere del comitato di bioetica e quindi forse potrebbe fare giurisprudenza per i ragazzi decidere da soli. Quindi lo diciamo ai ragazzi che ascolto. Prima di sentire subito Franco e da Milano sulle ricadute politiche del Green Pass e del perché si è rallentata la decisione del governo Draghi diciamo di vedere step by step. Ancora un flash con la viola e poi subito da Massimo Franco. La questione della terza dose in molti paesi la stanno sperimentando, in Inghilterra, in Israele, in Germania stessa, e l'Unione Europea sta procedendo con l'acquisto, anzi con l'acquisto, con i contratti con Moderna e Pfizer. Secondo lei anche da noi arriveremo alla terza dose? Allora, io credo che sia veramente prematuro parlare di terza dose nel senso è giusto prepararsi. Cioè un conto è dire io mi preparo nel caso dovesse servire. Quindi questo è corretto. Ma in questo momento noi non abbiamo nessun dato scientifico che ci dica che ai giovani e alle persone sane e alle persone che non hanno problemi serva una terza dose. Anzi, è molto probabile che proprio quest'alta circolazione del virus nelle persone vaccinate funga in qualche modo da continua riattivazione del sistema immunitario. Quindi io in questo momento rifiuto il concetto di terza dose. La terza dose potrebbe essere utile, anzi lo è senz'altro, nelle persone immunodepresse che hanno problemi al sistema immunitario. Ecco, in queste dare uno stimolo maggiore per proteggerle da questa variante aggressiva questo potrebbe essere utile. Ma è una categoria molto molto ristretta. Le posso chiedere una cosa concreta dottoressa Viola. Lei poco fa diceva le persone non vaccinate in questo momento devono fare attenzione perché il virus sta circolando e sono davvero a rischio di ammalarsi. Concretamente facciamo un caso un luogo di lavoro un luogo chiuso dove convivono persone vaccinate e non vaccinate. i vaccinati possono contrarre il virus ma sono come dire esenti da rischi gravi o gravissimi. I non vaccinati che contraggono il virus e convivono con persone vaccinate concretamente ci faccia un esempio che cosa potrebbe succedere? Poniamo che David non sia vaccinato cosa che naturalmente come tutti sanno non è e invece io a questo tavolo ci sia uno di noi quattro non vaccinato. Che cosa potrebbe succedere? Facciamo un esempio. Allora mi sta chiedendo una cosa molto complessa devo parlare un attimo allora se una persona non vaccinata si trova insieme a persone vaccinate il suo rischio di essere contagiato è ovviamente abbastanza basso perché le persone vaccinate hanno una bassa probabilità di infettarsi e una probabilità ancora più bassa di contagiare però basta che ci siano due persone non vaccinate che già il rischio diventa alto perché allora invece il contagio è possibile e le persone non vaccinate possono andare in conto come sappiamo a una malattia severa mentre le persone vaccinate se anche si infettano e il virus inizia la replicazione al loro interno comunque non andranno in conto a malattia severa nella stragrande maggioranza dei casi. In realtà con la variante Delta in questi giorni noi stiamo discutendo perché mentre con le varianti precedenti eravamo certi del fatto che le persone vaccinate non potessero contagiare si è assistito alla presenza di contagi anche da vaccinati o perlomeno questo è quello che sta emergendo negli Stati Uniti e che ha fatto allarmare Fauci che ha detto attenzione anche le persone vaccinate in casi rarissimi in situazioni veramente inusuali possono contagiare quindi che cosa significa che in presenza di una persona non vaccinata anche i vaccinati devono tenere la mascherina cioè noi dobbiamo proteggerli perché dobbiamo considerarci contagiosi mentre se siamo tutti tra vaccinati c'è una doppia barriera la barriera di chi eventualmente è entrato in contatto col virus e la barriera di tutti gli altri quando c'è una persona non vaccinata bisogna bisogna mantenere le protezioni la distanza e insomma tutto quello a cui ci siamo abituati nei mesi precedenti chiaro allora vi dobbiamo dare due notizie importanti la prima che riguarda Wuhan città simbolo come noi tutti sappiamo e la città di Wuhan è tornata in lockdown e la seconda invece riguarda la situazione nostrana e italiana poco fa alla Camera via libera riforma del processo penale i voti a favore ve lo leggo perché è successo pochi secondi fa 396 contrari 57 tra gli astenuti Franco è da Milano molto rapidamente per capire chiudiamo così il capitolo Green Pass ma stiamo salutando la dottoressa no no lei c'è ancora Green Pass è obbligo vaccinale e la questione è questa la scelta del governo Draghi mi sembra piuttosto chiara quella di dire vediamo come va la curva vediamo come va il contagio ed eventualmente da qui a fine agosto prenderemo altre altre decisioni dipende evidentemente da che cosa dalla eterogeneità della maggioranza e della divergenza come dire di posizioni oppure c'è anche come dire un raffronto rispetto a quello che sono le indicazioni del comitato tecnico scientifico no secondo me sono tutte e due le cose perché ho l'impressione anche da quello diceva la dottoressa Viola che non se ne esca finché non si avrà un farmaco perché il vaccino è molto importante ma mi pare non basti e soprattutto essendo una cosa nuova pone dei problemi di volta in volta quindi in realtà non abbiamo risolto tutto con il vaccino quindi fino a che non ci sarà un farmaco a mio avviso sarà difficile detto questo proprio per l'incertezza che c'è si alimentano tutte le divergenze che sono i tipi ideologico psicologico strumentale chiamiamole come vogliamo che secondo me non favoriscono la sicurezza dell'opinione pubblica alimentano un po' di disorientamento e quindi rappresentano un problema supplementare sia per il governo sia per gli stessi medici Marco Damilano? Ci sono le varianti del virus e poi ci sono le varianti della politica che sono forse diciamo diciamo che è l'incrocio di queste due varianti che provoca questa prudenza anche perché la dottoressa Viola prima ha detto che il governo si avvicina gradualmente all'obbligo e non è detto che ci arrivi anzi era una domanda che le avrei fatto se alla fine quello è un punto di arrivo sui trasporti dici soprattutto per settembre? Beh sui trasporti sulla scuola prima si parlava del mondo del lavoro ora è chiaro che più ti avvicini a una sfera che riguarda i diritti primari lavorare studiare spostarsi e più deve crescere la forza della legge che peraltro viene prevista dall'articolo 32 della Costituzione il trattamento sanitario obbligatorio viene fatto con una legge una legge che prevede delle garanzie che prevede degli obblighi dello Stato cioè se io ti obbligo a fare una cosa e poi le cose vanno male lo Stato ti risarcisce allora tutta questa materia diventerebbe davvero politicamente incandescente quindi è chiaro che quella gradualità serve anche a evitare che lì però Draghi tutto può beh insomma non tutto quasi tutto è riuscito a portare a casa la riforma della giustizia che come dire non c'è sembrava piena di inciampi contro la pandemia ti devo dire che nemmeno Draghi ce la può però è figlia anche di molti compromessi e anche lì tanta gradualità bisogna anche dire la riforma della giustizia entrerà in vigore nel 2024 insomma ne vedremo prima del 2024 vorrei chiedere l'ultima cosa ad Antonella Viola a proposito di questa cosa dell'obbligo dottoressa Viola la nostra Costituzione lo prevede prevede il diritto alla salute ma non si cita mai la seconda parte nell'interesse della collettività nell'interesse della comunità non è garantito soltanto il diritto alla salute individuale ti interrompo perché ci arrivano in diretta da Lampedusa le immagini dello sbarco di questa carretta del mare in spiaggia e allora siccome sono immagini che diciamo noi soltanto perché abbiamo la nostra inviata lì quindi vi chiediamo scusa della qualità ma ovviamente qui parla la notizia e le cose che stiamo vedendo allora se c'è la nostra testa che ce le può commentare in diretta vediamo o delle persone vai state ecco state vedendo uno sbarco che è avvenuto sulla spiaggia perché come vi dicevo prima loro erano ascoltati dalla guardia di finanza e se i motori sono accesi non si possono spengere in mare questi sono i migranti che sono appena arrivati a Lampedusa sono circa un'ottantina noi non ci possiamo avvicinare perché ricordo che siamo in emergenza sanitaria quindi loro adesso arriveranno all'hotspot in questa zona stanno vedendo le loro prime condizioni fisiche quindi per vedere se qualcuno non ha riportato lesioni in mare e capire se non deve essere trasportato o meno qui all'ospedale di Lampedusa ci sono donne o bambini che tu sappia scusa all'hotspot guarda in questo momento non lo sappiamo perché gli operatori noi siamo abbastanza lontani quindi io non riesco a vederlo da qua al momento non lo sappiamo perché anche gli operatori sanitari sono appena arrivati come vedete qui c'è medici senza frontiere e i medici di Lampedusa quindi stiamo vedendo proprio lo sbarco avvenuto in realtà in questo momento quindi state proprio vedendo le prime immagini noi adesso chiederemo se effettivamente ci sono bambini o madri vi dico che però sicuramente la nazionalità è tunisina perché in questo momento stiamo avendo qui a Lampedusa principalmente sbarco tunisini perché? perché la situazione politica come ben sappiamo in Tunisia è molto molto caotica e soprattutto il covid sta causando problemi economici estremamente gravi in quella nazione e quindi questi sono quelli che vengono considerati migranti economici e perciò vedete con le luci li stanno chiedendo a loro di farli sedere torniamo da te tra poco non vogliamo interferire con le operazioni ovviamente facci sapere più tardi qualche dettaglio e raccontaci magari nella seconda parte della trasmissione così lo spieghiamo al pubblico le procedure cioè che cosa accade quando queste persone sbarcano le visite mediche che vengono effettuate a questo proposito Davide siccome poco fa Elena Testi ci ha parlato della presenza di persone positive al covid nell'hotspot vorrei tornare e concludere con la dottoressa Viola perché anche questo è un tema delicatissimo cioè noi non abbiamo l'obbligo vaccinale e quindi io non conosco lo chiederemo più avanti ma sicuramente l'obbligo vaccinale non essendoci non c'è neanche per le persone che arrivano e che sbarcano cioè noi le prendiamo nelle condizioni di salute in cui si trovano e le curiamo però questo è un elemento di timore che potrebbe essere cavalcato politicamente aggiuntivo è già successo perché un tempo dicevano vengono a rubarci il lavoro e adesso sarà un attimo che diranno che non vengono a portarci il virus e su questo tema volevo dire la dottoressa Viola chiederle ancora una cosa conclusiva sull'obbligo poiché la Costituzione lo prevede e poiché ci sono già altri vaccini obbligatori che tutti quanti abbiamo fatto e facciamo e che hanno sconfitto malattie mortali alcuni di noi ne portano ancora i segni sul braccio che cosa secondo lei è cambiato da quando è stato semplice imporre il vaccino obbligatorio ad oggi è solo la natura del vaccino o è anche un clima diverso la politica che cosa impedisce di dire se il vaccino è necessario fatelo Allora faccio due commenti rapidi e poi rispondo alla sua domanda prima ho sentito dire il vaccino non basta serve il farmaco in realtà se fossimo tutti vaccinati basterebbe certo il farmaco sarebbe fantastico però se ci vaccinassimo tutti il vaccino sarebbe la soluzione e quando saremo tutti vaccinati vedrete che il vaccino sarà effettivamente la soluzione per quanto riguarda le persone che sbarcano io sono sicurissima che se gli proponiamo il vaccino se lo fanno senza problemi molto volentieri perché da noi c'è una minore accettazione del vaccino dell'obbligo eventualmente questa è una domanda molto difficile che dipende da le spiegazioni sono varie dipende dal fatto che viviamo in un mondo in cui ognuno di noi pensa di poter essere detentore della verità non ci si fida più dell'autorità che viene vista con scetticismo ad alcuni come qualcosa di sbagliato c'è un complottismo insomma che vede sempre tutto come negativo soprattutto la tecnologia la scienza siamo cresciuti in questi anni con l'idea che tutto quello che è naturale è fantastico tutto quello che invece viene dalla tecnologia dalla scienza sia male e ovviamente questa è un'idea sbagliata stiamo pagando il prezzo di tutto ciò detto questo il vaccino obbligatorio secondo me noi stiamo prendendo una strada per vedere se senza l'obbligo si riesce a superare la pandemia naturalmente io penso che se tutto il mondo nel nostro paese in Europa si vedesse che questo non è sufficiente perché c'è una forte fetta di persone che non si vaccina e questo mette a rischio tutta la collettività intesa come salute intesa come lavoro ed economia a quel punto bisognerà necessariamente considerare anche l'idea dell'obbligo grazie grazie professoressa Viola immunologa speriamo di riaverla presto da noi abbiamo visto lo sbarco in diretta a Lampedusa che ci introduce il tema del semestre bianco in realtà le due cose sono eccole qua immagini drammatiche che vi vogliamo documentare in diretta che arrivano dall'isola di Lampedusa con la nostra Elena Testi sono arrivati i soccorsi c'è Medicinesa come vedete ci sono molti donne e bambini in questo momento ecco 30 secondi stanno portando anche loro all'hotspot e si cerca di non dividerli no si stanno portando adesso all'hotspot chiaramente le famiglie non vengono tuteliamo i bambini quindi giusta la camera girata purtroppo ce ne sono molti perfetto grazie Elena torniamo tra poco da te e allora il semestre bianco ce lo racconta Andrea Postiglione il Mattarella story e da qui introduciamo questo altro importantissimo argomento che riguarda l'attualità proclamo eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne realmente la Costituzione si sta iniziando a parlare di impeachment e dicono che non si può fare che è assurdo e chissà quant'altro scuse qui non stiamo parlando di una possibilità ma di una certezza pressoché assoluta l'onorevole Luigi Di Maio ministro dello sviluppo economico e ministro del lavoro e delle politiche sociali non vado al barbiere neanche io quindi qui a Cologna in questa casa comunale è presente l'Italia della solidarietà della civiltà del coraggio il Covid il Covid comparso da non molti mesi sarà sconfitto dalla ricerca il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa sera al palazzo del Quirinale il professor Mario Draghi il quale ha accettato di formare il nuovo governo Cari concittadini e cari concittadini quello che inizia sarà il mio ultimo anno come presidente della Repubblica il lavoro è impegnativo l'attività è impegnativa io sono vecchio tra qualche mese potrò riposarmi auguri bambini grazie 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 allora Massimo Franco chissà se davvero è il suo ultimo anno da presidente della Repubblica e se fra qualche mese potrà riposarsi non è detto non è detto entriamo nel semestre bianco ma c'è un'ipotesi molto molto accreditata che vede la possibilità di una prosecuzione almeno per un anno per arrivare a fine legislatura sì non si può sapere ma io ho l'impressione che Sergio Mattarella quando dice che non vuole continuare lo dicano soltanto per questioni di età credo che nella sua ottica un settennato non sia qualcosa di gestibile con manovre politiche e quindi lui ritiene che l'idea di prestarsi soltanto per un breve periodo sia qualcosa che contraddice il dettato costituzionale quindi credo ci sia innanzitutto questa sua remora e poi naturalmente c'è anche il fatto che Cossiga diceva che i capi dello Stato sono come dei re a tempo ecco ho l'impressione che per Mattarella sette anni siano il termine giusto per una monarchia a tempo dopodiché credo che in realtà nessuno sappia cosa succederà da qui a otto mesi perché credo che la presidenza della Repubblica non sia nelle mani di nessuno per paradosso neanche di Mattarella quindi siccome con Draghi c'è un'accelerazione fortissima delle dinamiche politiche noi non sappiamo tra sei e otto mesi come sarà l'Italia e quindi non sappiamo neanche quali e quante pressioni potranno essere esercitate da Mattarella magari anche sul piano internazionale perché in qualche modo accetti qualcosa che oggi a mio avviso mi pare molto improbabile Allora da Milano proviamo a fare un passo in avanti seguendo la traccia di Franco e cioè ti vorrei chiedere chi oggi ha interesse a che Mattarella rimanga al suo posto per qualche tempo proviamo a girare la questione al di là dell'interessato che ha detto che doveva dire ovviamente diciamo per dirla in termini nobili tutti quelli che hanno interesse che Mario Draghi prosegua a governare da palazzo per chi non mastica ogni giorno la politica facciamo un po' l'elenco intanto sul piano internazionale la Unione Europea vuole che il governo Draghi continui fino al 2023 perché ci sono i fondi da spendere faccio un esempio Paolo Gentiloni commissario dell'economia ma diciamolo anche senza ipocrisia anche lui candidato un fondo al Quirinale ha fatto una lunga intervista per dire il 45% dei fondi si spenderà nel 2022 e il governo Draghi deve rimanere in carica perché Draghi è possiamo dire uno dei più accreditati come diremmo in politichese è uno dei più forti candidati alla successione di Mattarella e poi ci sono interessi anche per così dire meno nobili interessi legittimi dei partiti delle forze politiche ad esempio il Partito Democratico sicuramente è tra quei partiti che pensa che Mattarella debba proseguire meno convinti sono i partiti del centro-destra perché pensano che eleggere Draghi al Quirinale significa automaticamente andare al voto subito quindi paradosso l'unico partito che ha l'opposizione Fratelli d'Italia di Draghi è un partito che però forse volentieri voterebbe Mario Draghi al Quirinale per andare a votare subito e riscuotere quel consenso che i sondaggi oggi gli indicano però sono molto d'accordo con quello che ha detto Massimo oggi oggi che è 3 agosto ma noi già il 3 ottobre giorno ufficiale in cui si voterà per le amministrative l'hanno deciso pochi minuti fa il Consiglio dei Ministri è il Quirinale beh non sappiamo il 3 ottobre che succederà ma se ne posso permettere non sappiamo neanche se questi partiti arriveranno alla campagna elettorale così come sono noi abbiamo aperto una finestra su Lampedusa perché la campagna elettorale è partita ufficialmente quando Salvini ha detto alla vigilia del semestre bianco se il ministro Lamorgese non risolve il tema dell'immigrazione di fatto diciamo facciamo cadere il governo vogliamo vedere prima di ascoltare Massimo Franco o insieme i sondaggi della SVG perché questo che diceva Marco Damilano Massimo è molto interessante e da casa bisogna prendere appunti per capire ma bisogna vedere tra due mesi se i sondaggi sono gli stessi c'è una tale volatilità che i partiti che oggi possono avere le elezioni tra due mesi potrebbero essere contrari Salvini che prima era molto favorevole oggi è molto più cauto perché c'è una meloni in ascesa quindi secondo me vanno visti con molta prudenza meloni in ascesa allora noi vediamo in questi dati SVG che la fiducia al Presidente della Repubblica Mattarella è ai due terzi dell'opinione pubblica cioè è alta a livelli forse di Ciampi o non so una fiducia altissima in un momento di grandissima crisi politica del Paese ma abbiamo anche dei dati sulle intenzioni di voto diceva giustamente Massimo Franco la questione è oggi la meloni e non a caso Giorgia Meloni si è incontrata con Berlusconi in vista delle amministrative e anche d'altro proprio in queste ultime ore allora il partito di Giorgia Meloni è dato al 20,6% la Lega al 20,3% quindi c'è stato diciamo ormai ufficialmente il superamento vabbè probabilmente fra due mesi un superamento virtuale virtuale di intenzione di voto allora noi siamo usciti dalle ultime elezioni nel 2018 con tre blocchi centro-destra 5 stelle centro-sinistra quasi equivalenti diciamo quasi si andava dal 26 al 37 non è che con questa situazione si torna verso il bipolarismo cioè il partito unico del centro-destra è un'alleanza PD 5 stelle sinceramente io quello che vedo è una grande frantumazione noi abbiamo i tre maggiori partiti che non vanno oltre il 20% e il quarto partito Movimento 5 stelle mi pare al 15% questo secondo me vuol dire che non c'è nessun partito che sia un partito in grado di aggregare gli altri e credo anche che ci sia un tale scontro sia all'interno del centro-destra sia nella sinistra sia nel Movimento 5 stelle che secondo me questa prospettiva del bipolarismo mi pare improbabile non solo ma io sono abbastanza convinto che se come penso si arriverà alle elezioni non l'anno prossimo ma l'anno dopo probabilmente le elezioni politiche le elezioni politiche la scadenza naturale della legislatura probabilmente più della metà dei partiti e dei leader che ci sono oggi non ci saranno più quindi credo la situazione sia estremamente in movimento più della metà dei leader secondo me sì Movimento 5 stelle sarà lo stesso di adesso un unico movimento già vediamo c'è uno scontro tra Conte e Di Maio sotterraneo ma violentissimo con Grillo che è in una posizione indebolita ma non si capisce bene come gioca e gli altri leader in gioco nel PD non so cosa succederà se le elezioni ad ottobre amministrative non andassero come si spera nel Partito Democratico Forza Italia è legata molto alla sorte di Berlusconi Fratelli d'Italia e Lega sono ai ferricorti ed uso un eufemismo le candidature per i sindaci delle grandi città dimostrano una pochezza tale che si capisce che non c'è una classe dirigente in grado di esprimere una nuova classe dirigente e poi c'è Draghi se facciamo la somma di tutto questo credo che andiamo verso una scomposizione e ricomposizione del sistema politico della quale noi adesso vediamo soltanto l'antipasto Allora abbiamo 60 secondi di pubblicità poi ritorniamo Flash di Damilano rimanete così con noi davvero solo 60 secondi tra poco Marco Damilano questi dati questi sondaggi alla fine che cosa ci testimoniano come dire un quadro politico in assoluto movimento ma sono d'accordo scomposizioni ricomposizioni una l'ho vista ieri a Bologna dove l'ex premier Conte è entrato nel corteo per la commemorazione della strage del 2 agosto 1980 e lì si vedeva che si proponeva come un leader di una sinistra in movimento tra l'altro non c'era il segreto il PD Enrico Letta e quindi c'era un vuoto tra l'altro una scena è entrato nella chiesa dove il cardinale Matteo Zuppi aveva celebrato la messa la cartabbia aveva ascoltato la messa lui è entrato dopo è stata la raffigurazione di un'antichissima battuta di Montadelli De Gasperi parla con Dio Andreotti parla con i preti ecco Conte è balzato in sacristia appena finita la messa è sembrato proprio la reincarnazione del divo che però non ne parlo di fronte a Massimo che è il grande esperto di Andreotti però è stata proprio ho visto la reincarnazione di quella scena famosa battuta ma questo solo per dire quanto siano mobili al di là dei partiti le identità politiche tu puoi essere contemporaneamente nella stessa mattina l'erede della sinistra e anche l'erede di un certo moderatismo democristiano e poi durante la campagna elettorale probabilmente tirerai fuori l'identità che ti fa più comune la frantumazione della sinistra non abbiamo detto che in questi sondaggi azione al 3,9% articolo 1 e Italia Viva al 2 quindi sono ammesso che si possa con rispetto parlare di sinistra ci torneremo e tornerà Massimo Franco e Marco da Milano a spiegarci chi è Andreotti oggi questo senz'altro dopo il suo successo del suo libro anche se non credo che ci sia ma comunque certo mi piace frammenti di Andreotti un braccio una gamba dobbiamo però ricordarvi questo che subito dopo di noi gettate al telecomando Massimo Giletti con uno speciale di Non è l'arena Giletti ha raccolto le testimonianze pesate di due ragazze che hanno deciso di raccontare la loro storia dopo che si sono viste chiudere la loro indagine sulla violenza sessuale subita con una richiesta di archiviazione allora sarà una puntata davvero speciale le due ragazze avevano denunciato di essere state violentate da quattro giovani nel luglio del 2019 dopo una notte in discoteca è uno speciale dopo di noi bene lo vediamo senz'altro ma tornate a dirci dov'è finito Andreotti tornate a dirci nella politica attuale dov'è Andreotti va bene allora con questo ci salutiamo e ci promettiamo di essere qui reciprocamente anche domani sera alla stessa ora grazie della vostra attenzione grazie a tutti Grazie a tutti.